Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4... www.sciencewebradio.net in cui potrete trovare la Science Web Radio per l'appunto e la Science Web TV ed inoltre c'è anche un blog a disposizione per tutti quanti voi che volete lasciare qualcosa scrivete, scrivete, scrivete articoli, idee, sfoghi, commenti, suggerimenti, richieste confrontiamoci, noi siamo aperti a tutto e a tutti vi aspettiamo ed infine il quotidiano appuntamento con il sottoscritto con Gianluca sulla storia delle rock band alle ore 6 del mattino alle 12, cioè a mezzogiorno alle 18, ovvero alle 6 del pomeriggio e alle 24, cioè a mezzanotte vi aspetto tutti i giorni con The Rock Band History Gianluca e Science Web Radio vi aspettano Ciao!